Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Benvenuti al sabato della libertà religiosa. Dottor Hendrikus Hietkamp, Padre Celeste, grazie per i doni di guarigione che hai dato al dottor Hendrikus. Grazie per come hai guidato lui e sua moglie nel Ministero della Guarigione e come condivide un capitolo della storia ventista. Chiediamo umilmente di imparare le lezioni del passato e di poter essere meglio preparati quando la coscienza sarà minacciata in tutto il mondo. Prego che il tuo Spirito Santo parli attraverso di Lui e per Lui. Nel nome di Gesù. Amen. Vi saluto nel nome del prezioso Signore Gesù Cristo. Oggi esamineremo alcune lezioni da imparare dai nostri fratelli che hanno attraversato la Prima Guerra Mondiale. E' uno dei capitoli più oscuri della storia ventista, le cui ombre si estendono fino ai nostri tempi. Sono convinto che quando lo Spirito sarà riversato nella sua pienezza, piangeremo per tutto il dolore inflitto al nostro Salvatore, per tutto il tempo sprecato che abbiamo trascorso nel peccato e nella tiepidezza. Citerò da questo libro scritto da Johannes Hartlap, professore al seminario avventista in Germania. In questo libro esamina per la prima volta la storia dell'avventismo nella Prima e Seconda Guerra Mondiale da un punto di vista storico, anziché scusarsi, giustificare e difendere ciò che la Chiesa fece a quel tempo. Vediamo l'era precedente al 1914. C'è una presenza avventista soprattutto nell'Europa centrale, con la maggior parte dei membri avventisti nell'impero tedesco, grazie alla guida dinamica e del duro lavoro di Conradi. I rapporti tra Chiesa e Stato in Europa e anche in Germania erano tesi a causa del sabato. La Germania e tutti gli altri paesi europei avevano sei giorni di lavoro e un riposo domenicale. Il problema del riposo del sabato era acuto anche nell'esercito. I giovani soldati arruolati prestavano servizio con o senza armi, ma rifiutavano il servizio di sabato, il che rendeva loro la vita molto difficile. La vita era difficile anche sul posto di lavoro. Se qualcuno accettava la verità del sabato, di solito perdeva il lavoro. Il sabato, la frequenza scolastica per i bambini era obbligatoria. A quel tempo accettare il messaggio era molto difficile. Riguardo l'interazione tra lo Stato e il servizio militare, il primo rapporto di un soldato tedesco che si rifiutò di servire dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato risale al 1887. Nel corso del tempo, sempre più aventisti, si presentavano ai tribunali militari e alcune chiese inviarono una petizione al Kaiser in cui ci si riferiva ai privilegi connessi ai Mennuniti. Questo è un aspetto molto importante perché, in generale, la legge religiosa del sovrano dell'impero tedesco era riconosciuta nella pace di Westfalia, 300 anni prima del periodo di cui parliamo. A quel tempo finì la guerra dei Trent'anni in cui i paesi cattolici cercarono di riportare la Germania a protestante sotto il loro controllo, ma grazie alla coraggiosa piccola Svezia che difese la causa protestante ci fu un pareggio alla fine della guerra. Questo è importante. Secondo questo trattato, tutte le religioni e le sette non incluse nella pace di Westfalia furono bandite. Quelle tollerate erano gli ebrei, le chiese morave, i Mennuniti e i fratelli boemi. Ecco perché gli aventisti volevano fare domanda per i benefici dei Mennuniti. Questi organismi religiosi sono chiamati chiese storiche della pace, storiche perché avevano una storia di pacifismo cristiano e i loro nomi erano diventati sinonimi di questa posizione. Fino a oggi costituiscono il riferimento del comportamento cristiano nel tempo di guerra. Ci sono due chiese della pace, prima e due dopo la riforma. E dalla guerra civile americana gli aventisti si erano uniti alle chiese della pace, insieme ai testimoni di Geova nati dopo la guerra civile. Ci ritorneremo più tardi. È possibile che in Germania il Ministero della Guerra fosse stato disposto a concedere agli aventisti la stessa tolleranza data ai Mennuniti e agli anabattisti, ma opinioni divergenti sui contenuti e sui tempi di una petizione al governo portarono ad una perdita di tempo prezioso. Quindi, alla fine del gennaio 1914, i vertici aventisti in Germania decisero di fare una petizione al Reichstag. Il documento non fu discusso in tempo né fu presa una risoluzione prima della pausa estiva del Parlamento. Poi arrivò la guerra e interruppe questo processo. La Prima Guerra Mondiale arrivò come disse Conradi, come un fulmine a ciel sereno. Non possiamo capire il dramma di ciò che accadde in pochi giorni. In una settimana l'Europa era in fiamme. La maggior parte degli aventisti del settimo giorno europei vivevano nell'impero tedesco. Ora esamineremo brevemente la cronologia degli eventi bellici. Il 28 giugno c'è l'assassinio dell'arciduca Ferdinando e sua moglie a Sarajevo, Serbia. Questo dà inizio alla crisi di luglio. L'Europa si prepara alla guerra. Il 28 luglio l'Austria-Ungheria fa la prima dichiarazione di guerra alla Serbia, alleata con la Russia. Il primo agosto, sabato, la Germania dichiara guerra alla Russia. Ora inizia il dramma. Domenica 2 agosto, il segretario della divisione europea aventista presso il quartiere generale di Hamburgo invia una lettera circolare alle chiese tedesche e dice, cito la sezione 2, In Giosuè capitolo 6 i figli di Dio hanno fatto uso delle armi da guerra e svolto anche il servizio militare di sabato. Ricordate Giosuè capitolo 6? Israele girò attorno a Gerico una volta al giorno e il settimo giorno girarono sette volte. Questa era una facile spiegazione del perché possiamo partecipare alla guerra. Ma non funziona così. Il 3 e 4 agosto sono fatte altre dichiarazioni di guerra. Il 4 agosto Schubert, presidente dell'Unione della Germania dell'Est con sede a Berlino, dove si trova anche il Ministero della Guerra, si rivolge ad esso. Cito un paragrafo. Gli aventisti tedeschi del settimo giorno, leggiamo più sotto, in questo grave momento di guerra, si sentono impegnati a difendere la patria e ad usare le armi anche di sabato, in queste circostanze. Quindi, la Chiesa è stata informata, il Ministero della Guerra è stato informato e ora la Chiesa si rivolge al pubblico. Il 5 agosto la dirigenza aventista annuncia pubblicamente la nuova posizione in due quotidiani. Il primo è il Cito La Conferenza Generale Aventista di Hamburgo ha approvato una risoluzione, come è stato detto in una riunione del 2 agosto, per raccomandare ai membri della loro Chiesa di servire fedelmente alla loro patria in tempo di guerra e di prestare servizio nelle forze armate anche di sabato, sulla base di Giosuè, capitolo 6. Quando si esaminano queste dichiarazioni, ci sono un paio di livelli di comunicazione. Tristemente, quando sotto pressione, la Chiesa cambia i principi. La Chiesa si posiziona con le Chiese protestanti tradizionali, sebbene prima della guerra avesse tentato di ottenere i privilegi delle Chiese della Pace. Questo dimostra che la Chiesa aveva un'anima doppia. Viene usata una nuova teologia per giustificare il cambiamento di principio, abusando grossolanamente delle scritture e indirettamente questa dichiarazione dice tutti i membri della Chiesa che non sono d'accordo con questi principi non sono veri aventisti. Poi c'è un secondo annuncio qui sul Nella mia ricerca dei documenti originali per questa presentazione ho trovato questo annuncio che non è mai stato documentato prima. Per me la provvidenza vuole che questa informazione venga pubblicata per la prima volta in questo fine settimana sulla libertà di coscienza. Quindi avete il piacere di essere i primi a leggere questo documento. cito gli aventisti di Hamburgo annunciano quanto segue sebbene in tempo di pace i giovani aventisti soggetti al servizio militare fossero esentati dal servizio di sabato in virtù delle loro convinzioni di coscienza ora rinunceranno a questo privilegio e si metteranno a disposizione dell'imperatore per la difesa della patria tedesca eccetera nota i giovani aventisti avevano avuto convinzioni di coscienza prima della guerra ora rinunceranno a questo privilegio è una terribile violazione del principio di libertà di coscienza da parte delle guide aventiste sfortunatamente le guide aventiste vendono allo Stato le coscienze dei propri membri per il riconoscimento e la sopravvivenza ma i discepoli del mite e umile Gesù sanno che la coscienza non è mai in vendita ora le lezioni che impariamo sono le convinzioni di coscienza devono essere chiare prima che inizi la crisi devi conoscere le scritture non affidarti alle guide per cosa fare perché probabilmente cederanno ai poteri forti sii pronto a disubbidire le guide se violano la tua coscienza non sorprenderti informati sii pronto a stare da solo studia la storia della chiesa dagli inizi ai tempi recenti riguardo la libertà di coscienza studia come le guide reagiscono nella crisi non solo della nostra chiesa ma anche delle altre denominazioni il 6 agosto c'è un'ulteriore dichiarazione di guerra e per divina providenza il sabato 8 agosto la lezione riguarda il dovere del cristiano nei confronti dell'autorità civile era come se dio dicesse attenzione sta arrivando un problema e voglio che tu sia pronto tre mesi prima la stessa lezione è stata studiata in inghilterra e negli stati uniti in basso c'è il versetto biblico romani capitolo 13 verso 1 ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori poiché non c'è autorità se non da dio e le autorità che esistono sono istituite da dio ora l'8 agosto la lettera scritta da guy dale il 2 agosto arriva in molte chiese avventiste e nello stesso servizio dopo la scuola del sabato dove è discussa la relazione tra il singolo credente e l'autorità civile fu letta anche la circolare di guy dale che dice di usare le armi di sabato per essere fedeli al governo combattendo nel suo santo giorno dopo questo la confusione era perfetta in alcune congregazioni la protesta era forte e un testimone non ricorda nemmeno se il servizio si fosse concluso normalmente a causa delle forti reazioni ma sono grato per lo spirito protestante ancora vivo in alcune chiese tedesche ora con questo terremoto spirituale iniziale accaddero le seguenti cose in alcune chiese alcuni membri di chiesa sono espulsi e i loro nomi vengono letti dal pulpito si parla di chiese aventiste intere chiese sono sciolte alcuni fratelli scelgono la clandestinità per evitare la leva ma sono traditi e denunciati dagli ex fratelli alla polizia segreta di stato con conseguente persecuzione e morte la crisi viene come una sorpresa schiacciante la crisi polarizza immediatamente e dappertutto attraversa la chiesa e le famiglie nessuno è esente le relazioni più intime diventano le inimicizie più aspre e purtroppo la maggioranza sceglie la via della minor resistenza una chiesa può essere subito fatta a pezzi sii pronto a soffrire e a morire sii pronto a perdonare chi ti perseguita e ti odia ciò accadde in circa una o due settimane l'Europa era in fiamme la chiesa era stata fatta a pezzi ed è difficile per noi capire a pieno la portata di questo dramma poi sia la chiesa che i dissidenti consolidano le posizioni assunte durante la crisi noi impariamo che la nostra prima reazione prevede cosa faremo dopo ovviamente alla fine della prima guerra il clima tra la chiesa madre e i riformisti era molto teso nel 1915 vengono create le prime strutture organizzative e si tengono conferenze purtroppo i riformisti non emulano lo spirito di Cristo loro denunciano la chiesa ventista come Babilonia si considerano i custodi della legge e della testimonianza poco dopo fanno della riforma sanitaria una prova di fratellanza distinguendosi ulteriormente dalla chiesa ventista perché pensavano che fosse caduta in quel senso e inseriscono un gene cattolico nei loro principi cioè rendono il matrimonio un sacramento dopo il divorzio e il divorzio per adulterio non ci si può risposare nella loro pubblicazione sentinelle della verità the watchman of truth i riformisti dicono di essere l'angelo dell'apocalisse 18 e gli eredi del messaggio del 1888 ora per noi è facile sorridere e dire che sbagliassero ma guardando quella situazione di guerra loro pensavano che fosse l'armageddon che fosse la fine della storia quindi pensarono che se fossero rimasti fedeli avrebbero portato questo messaggio al mondo la guerra finisce e nel 1920 c'è un tentativo di riconciliazione a Friedenzow con il presidente aventista Daniels A.G. Daniels viene in Germania ma il tentativo fallisce e nel 1925 i principi di fede e organizzazione della chiesa sono formulati e oggi troviamo due grandi gruppi di riforma con circa 70.000 membri nel 1951 ci fu una grande separazione per una lotta di potere tra i riformisti un gruppo ha il suo quartiere generale in Georgia l'altro in Virginia il 6 aprile 1917 la guerra arriva agli Stati Uniti dallo scoppio della guerra due anni e mezzo di tempo gli Stati Uniti hanno avuto un'opportunità d'oro per riflettere sulla situazione e le guide aventiste conoscevano la situazione in Europa L.R. Conradi il capo della divisione europea è presente al consiglio autunnale della conferenza generale del 1915 in cui non c'è nessun supporto documentato né rimprovero per la sua posizione c'è silenzio quindi l'occasione d'oro per affrontare la situazione e potenzialmente porre il rimedio allo scisma in Europa è persa questa è una tragedia il rapporto tra Conradi e la conferenza generale è irrimediabilmente danneggiato eppure tornato in Europa lui dice che la conferenza lo sostiene ciò conferma ai riformisti che la conferenza generale è caduta l'errore delle guide e penso che tutti possiamo imparare una lezione è che nella crisi se stai zitto dici qualcosa non dicendo nulla con l'entrata in guerra degli Stati Uniti un'altra opportunità d'oro è persa viene fatta la dichiarazione di guerra e il comitato esecutivo della divisione nordamericana si riunisce le guide internazionali che discutevano la situazione hanno punti di vista contrastanti una settimana dopo la dichiarazione di guerra degli Stati Uniti è un po' tardi vero? c'è un acceso dibattito tra chi vuole accettare il servizio non combattente nell'esercito e chi favoreggia una posizione più pacifista i favorevoli alla posizione più pacifista devono essersi riferiti all'esperienza della Chiesa Ventista nella guerra civile per lo spirito di profezia dato allora così come alla posizione delle Chiese per la Pace i sostenitori dell'altro punto di vista potrebbero essere stati influenzati dalla recente lotta per ottenere l'accreditamento per l'Omalinda nel 1915 si era implorato lo Stato per dare l'accreditamento alla facoltà di medicina e ora non volevano opporsi al governo perché quando un obiettore di coscienza dice al governo non combatterò in questa guerra implica che la causa del governo sia sbagliata e lo Stato si irrita quando gli Stati Uniti entrarono nella prima guerra mondiale la Chiesa Ventista riaffermò e presentò la sua precedente posizione non combattente al Dipartimento della guerra tuttavia trasformò la sua interpretazione di non combattenza da non partecipare alla guerra a servizio militare disarmato gli avventisti potevano ora esprimere il loro patriottismo i suoi membri divennero soldati disarmati che si astenevano dall'uccidere i non combattenti del 1863 sono diversi da quelli del 1917 la parola ha un diverso significato oggi si dice sempre che siamo stati non combattenti ma è una mezza verità ciò aiutò chi prestava servizio nell'esercito in un ambiente medico a dichiarare quell'attività come accettabile durante il riposo del sabato dando agli avventisti arruolati un ruolo di non combattente nell'esercito e allo stesso tempo rimuovendo il difficile problema del riposo di sabato quando gli Stati Uniti entrarono in guerra nel 1917 la conferenza generale plasmò direttamente la posizione della chiesa americana la posizione adottata per gli avventisti e gli arruolati era nettamente diversa da quella votata nel 1865 ciò avvenne nonostante ci fosse un'opzione pacifista disponibile potendo facilmente riaffermare che questa era la nostra posizione in america c'era libertà di scelta potevi dire sono un obiettore di coscienza la mia chiesa ha una storia di obiezione come i menuniti questo cambiamento nella comprensione della non combattività ci porta al bivio tra la prima e la seconda generazione di avventisti e di conseguenza gli avventisti non sono più una chiesa di pace l'occasione d'oro di camminare sulla vecchia via dei pionieri è persa senza minacce né pericoli da nessuna parte la seconda generazione sceglie un'altra direzione ed inoltre si riconferma liberamente come una chiesa di pace c'è una posizione ambivalente sullo spirito di profezia nel senso che i consigli dello spirito profetico non sono interpretati correttamente nel contesto della situazione data dalla guerra è due anni dalla morte di Ellen White a parte la chiesa ventista ci sono due testimoni pre-riforma e tre post-riforma delle chiese della pace mi ricorda il versetto ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni e a partire dalla prima guerra mondiale il movimento riformista ventista diventa una chiesa della pace la guerra finisce l'11 novembre 1918 ora torniamo alla guerra civile e vediamo la chiesa ventista con la guerra questa è una cronologia affascinante il 12 gennaio 1861 fu dedicata la casa di riunione Parkville Michigan e dopo aver parlato Ellen White ha una visione poi dice alla congregazione che l'America avrebbe avuto una guerra terribile il 12 aprile scoppia la guerra a questo punto siamo affascinati dalla bellezza di una giovane chiesa che ha la testimonianza vivente di Gesù in mezzo ad essa lo spirito profetico cioè Ellen White prima che la sua chiesa affronti la guerra e prima che chiunque sappia della guerra il Signore informa la sua chiesa è come nei tempi apostolici semplicemente meraviglioso il 21 luglio c'è la battaglia di Manasse il 3 agosto Ellen White ha una visione alla conferenza di Roosevelt intitolata la schiavitù e la guerra in testimonianze per la chiesa volume 1 la resistenza del sud all'abolizione della schiavitù è come la resistenza del faraone per liberare Israele ad Ellen White è mostrato che un angelo termina la battaglia di Manasse e le spiega il motivo sia al nord che il sud sono puniti e sono nelle mani di Dio e lui farà questa nazione come meglio crede parallelamente abbiamo il perfezionamento continuo della struttura organizzativa con la conferenza del Michigan organizzata il 6 ottobre 1861 il 4 gennaio 1862 sabato Ellen White ha un'ulteriore visione sulla guerra intitolata il nord e il sud la malignità della ribellione del sud è un piano profondo per mantenere il sistema della schiavitù a qualsiasi costo questo piano ha molti simpatizzanti nel nord persino uomini di spicco nel congresso e nell'esercito non c'è unione tra i reggimenti e i soldati sono scoraggiati capiscono che la guerra non deve abolire la schiavitù ma deve mantenere l'unione così com'è il 12 agosto 1862 James White scrive un editoriale nella Review and Herald in cui esprime i suoi pensieri sul possibile arruolamento per la guerra con una conseguente vivace discussione il primo gennaio 1863 Lincoln emette la dichiarazione di emancipazione e da ora in poi la guerra va lentamente a favore del nord nel gennaio 1863 Ellen White scrive testimonianze numero 9 che si trova nel primo volume intitolata la ribellione in questa testimonianza abbiamo una dichiarazione fondamentale cito mi è stato mostrato che il popolo di Dio che è un tesoro particolare non può impegnarsi in questa guerra perché è contraria ad ogni principio della loro fede nell'esercito non possono ubbidire alla verità e allo stesso tempo alle richieste degli ufficiali perché sarebbero una continua violazione della coscienza chiama i comandamenti di Dio confermerà ogni buona legge nazionale ma se le richieste dei governanti saranno in conflitto con le leggi di Dio l'unica questione da risolvere è se ubbidiremo a Dio o agli uomini è un bellissimo esempio della testimonianza di Gesù alla sua chiesa nei tempi difficili lui guida il suo popolo su sentieri sicuri ci è ricordato il consiglio del buon re Giosafat credi nel Signore Dio tuo e sarai stabilito credi ai suoi profeti e prospererai il 3 marzo 1863 c'è il primo arruolamento ma pagando 300 dollari lo si evita gli aventisti che vengono arruolati pagano i 300 dollari anziché combattere parallelamente a questo la struttura organizzativa aventista si sviluppa c'è la prima conferenza generale a Battle Creek il 21 maggio il 6 giugno Ellen White ha una visione molto importante sulla riforma della salute sul divorzio e il rimatrimonio all'inizio del 1864 c'è un secondo arruolamento ora ci sono tre alternative per i non combattenti gli aventisti scelgono di restare completamente fuori dalla guida guerra poi c'è un terzo arruolamento che solo gli obiettori di coscienza possono evitare cioè i membri delle chiese della pace dei menoniti quaccheri e altri gruppi di anabattisti prima prima gli aventisti erano felici di aiutarsi pagando i 300 dollari ma ora questa opzione non c'è più quindi devono appellarsi al governatore del Michigan perché lì si trovavano la maggior parte degli aventisti il 2 agosto fanno richiesta il 3 agosto ricevono una risposta positiva per la quale sono felici vengono annunciati giorni di digiuno e umiliazione dal primo al 4 marzo Lincoln viene eletto per la seconda volta il 4 marzo il 9 aprile finisce la guerra e Lincoln viene assassinato sei giorni dopo qui c'è la richiesta al governatore del Michigan cito la riga in fondo il quarto comandamento richiede la cessazione dal lavoro il settimo giorno della settimana il sesto proibisce di togliere la vita nessuno dei quali potrebbero essere osservati durante il servizio militare la nostra pratica è uniformemente coerente con questi principi quindi la nostra gente non si è sentita libera di arruolarsi in nessuna delle nostre pubblicazioni confessionali abbiamo sostenuto o incoraggiato la pratica di portare armi e quando siamo stati arruolati piuttosto che violare i nostri principi abbiamo pagato i 300 dollari di compensazione notate quanto è chiaramente tracciata la separazione tra chiesa e stato queste sono le firme della petizione e qui c'è la risposta favorevole del governatore del michigan ora dopo che queste risposte positive furono ricevute sia dal michigan che da altri stati andrews fu invitato a per garantire il riconoscimento aventista al più alto livello di comando il marshall disse che la clausola di esenzione della legge sull'arruolamento non riguardava solo i quaccheri avete capito le chiese della pace capito le chiese della pace l'esenzione non riguardava solo le chiese della pace ma per chiunque avesse la stessa idea questa era una grande notizia l'aventismo adottò una posizione non combattente ma abbracciò davvero il pacifismo perché rifiutava qualsiasi servizio militare una volta adottata la posizione fu imposta e gli aventisti che non la prendevano sul serio furono disassociati sulla destra la chiesa di Plum River annuncia di aver scomunicato un fratello che si era volontariamente arruolato nell'esercito e il gennaio 1865 la giovane chiesa aventista era seria sulla sua posizione vediamo l'anno 1863 è un anno cruciale è l'anno del patto riguardo lo Stato la chiesa aventista rifiuta un patto con lo Stato riguardo la chiesa i patti della chiesa per servire Dio nasce il nome aventista del settimo giorno e si promette di sostenere i comandamenti e la testimonianza dello Spirito di Dio a livello individuale quando entriamo in una relazione di patto con Cristo al nostro battesimo c'è la riforma della salute ci prendiamo cura del tempio del nostro corpo e c'è l'altro patto su base individuale il patto matrimoniale nel matrimonio facciamo un voto di fedeltà dopo il 1914 per i riformisti questo diventa una pietra di inciampo i riformisti sono o ignoranti o negano il fatto che la luce sulla riforma della salute sul matrimonio e sul divorzio è data nella stessa visione quindi gli argomenti sono inseparabilmente legati e per giustificare questa posizione i riformisti devono far violenza allo spirito profetico dividendo le testimonianze in pubblicate e non pubblicate dove solo le testimonianze pubblicate devono essere accettate questa è una forma di uccisione del profeta quindi nello spirito uccidi il profeta mentre nella lettera osservi la legge è una pietra d'inciampo nella prima guerra mondiale 1914-18 la chiesa ventista ha difficoltà nel mantener fedeltà a questo patto siamo compromessi ora parliamo del presente Douglas Morgan descrive la comprensione nebulosa dei termini militari nel nostro gergo di chiesa specialmente il termine non combattente lui descrive la posizione di tre generazioni di aventisti verso l'esercito c'è la prima fase pacifista fino alla prima guerra mondiale poi c'è non combattente o cooperazione coscienziosa e dal 1972 la chiesa non intraprende azioni per chi sia in servizio di combattimento o obiettori di coscienza o non combattente io la chiamo una sconfitta coscienziosa cosa ci riserva al futuro penso ci sia un altro parallelo nella storia della chiesa perché la chiesa cristiana primitiva era radicalmente pacifista intransigente nella sua obiezione di coscienza poi nell'era di costantino c'è un lento cambiamento con la teologia della guerra giusta e il tutto si trasforma in un onore e un dovere di essere un soldato cristiano l'era di costantino si trova ai piedi di daniele 2 dove per la prima volta si ha l'argilla mescolata al ferro ed è anche il tempo della prima legge domenicale questo è il primo adempimento il secondo adempimento è quando alla legge finale domenicale la chiesa l'argilla si unisce al ferro ciò provocherà la rovina nazionale come accadde all'impero romano d'occidente che fu devastato dalle dieci tribù barbariche in Apocalisse 17 è detto che dieci remangeranno la carne della prostituta come risultato di quella apostasia e spero che quando quella rovina si verificherà e ci saranno guerre e conflitti che non ci sia nessun soldato avventista coinvolto vorrei attirare la vostra attenzione su un altro pensiero ogni volta che c'è un cambiamento di dispensazione quando il servizio del santuario si sposta dal santuario terreno a quello celeste in seguito si ha una guerra la guerra giudeo-romana poi Cristo si spostò dal luogo santo al luogo santissimo e ci fu la guerra civile americana e quando Cristo lascerà il luogo santissimo si avrà un'altra guerra civile nella guerra giudaico-romana non morì un cristiano nella guerra civile mi aspetto di essere corretto ma penso che non morì un solo avventista e quando arriveremo alla guerra finale nessuno del rimanente morirà alcune osservazioni conclusive taylor grand bunch ha scritto 40 anni nel deserto israele in tipo e antitipo dove identifica l'esperienza di kadesh dell'antico israele con l'esperienza del 1880 1888 dell'israele spirituale kadesh le 12 spie inviate nella terra promessa ritornarono con cattive notizie c'è ribellione e dio li fa vagare 40 anni nel deserto noi avventisti rivendichiamo ufficialmente l'accettazione del messaggio del 1888 così come i riformisti dato che lo spirito dei padri si manifesta in noi figli addempiremo realmente ciò che i nostri padri hanno fatto simbolicamente capite? ora noi faremo ciò che loro fecero allora perché condividiamo lo spirito i riformisti adempiono il simbolo perché dicono che la chiesa ventista sia babilonia uccidendo virtualmente la chiesa soprattutto tenendo presente la storia passata per due volte Dio dice a Mosè di spazzare via quella gente perché disubbidisce sempre ma farà di lui una nazione più grande e migliore ma Mosè simbolizza Cristo e dice no signore non puoi fare questo al tuo nome Mosè supplica usando un argomento brillante dice a Dio Dio quando gli egiziani e i cananei lo sentiranno diranno che non hai potuto farli entrare non puoi fare questo al tuo nome signore quindi ti chiedo di perdonarli ci risiamo il perdono se non puoi perdonare fallirai la chiesa ventista adempie anche l'antitipo l'adempimento quelli che nel deserto dopo aver sentito di dover vagare nel deserto per 40 anni decisero di combattere ed esattamente siamo andati abbiamo combattuto e quando il signore fa questa proposta a Mosè dice li sterminerò con la pestilenza se tu permetti nel 1914 1918 ci fu una pestilenza penso stia intendendo la spagnola si si ricordo bene in entrambe le storie non vedo Cristo rappresentato pienamente ma lo vedo rappresentato in questa chiesa pacifista durante la guerra civile un obiettore quacchero chiamato Seth Loughlin fu torturato brutalmente dai soldati per una settimana ed infine condannato a morto da un plotone di esecuzione come i dodici soldati gli puntarono le armi contro e gli ufficiali guardavano Loughlin chiese un'ultima preghiera e disse con calma padre perdonali perché non sanno quello che fanno lo storico Ferdinando Cartland registra la risposta strano fu l'effetto di questa preghiera familiare su uomini abituati a togliere la vita umana a comando ogni uomo abbassò l'arma e disse risolutamente che non li avrebbe sparato disubbidendo agli ordini militari ma i dodici non furono gli unici a cui furono toccati i cuori anche gli ufficiali revocarono la sentenza preparare questa presentazione è stata una benedizione perché mi ha costretto ad approfondire il sesto comandamento ed ha avuto un impatto sulla mia vita personale coniugale e religiosa è una bellissima espressione del messaggio di Cristo nostra giustizia le armi dell'inferno che usiamo in una varietà infinita e con diversa intensità omaggiano colui che è un assassino dal principio al contrario in una vita nella bellezza della santità l'amore la speranza e la fede sono espressi in una varietà infinita e con diversa intensità alla lode di colui che per primo ci ha amato ed è morto per noi possa Dio essere misericordioso con noi Amen Sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni Sottotitoli e Sottotitoli e